bella ragazzi bella benvenuti in questo nuovo video siamo tornati con la serie sfide ignoranti oggi faremo una sfida con squadre scelte dal gioco a casuali praticamente ora vediamo che squadre ci sono dei quadrati che possiamo schiacciare sì il preso l'anderlec beh al salto la raike via vediamo come va partiamo subito comincia l'anderlecte attenzione ma il gioco del rosa io messi mi sai dei nomi ma si è solo la sola volta la giocciuta mi trovi giocciuta come il tiro una sciapattata cos'è? cosa fa? cosa fa? eh già ma dai ma dai ma dai di giorno arriva lui stop di mette il tiro al volo bravo pronto proio squadra americana eh già stop elegante dai ma chi è stu qua? no no attenzione grande grande furti spazzola via spazzola 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 vaffan occhio ah non uscì interrompe l'azione con un intervento tempestivo no eh già eh uh ci ci ma no ci mette il gambone con la senza gamba attenzione eh già urale no ora oh no ah 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 proprio lui ma dai che difesa che difesa di babbi è arrivato il primo quadro dell'incontro 1 a 0 recuperiamo sto svantaggio su subito 1 a 0 eh tic tac andale oddio 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 il tiro ma cos'è cazzo il tiro eh ma cos'è cazzo il tiro eh ma dai vi mando eh eh sì no 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 o o o o e o e o o TUNNEL! Guarda che... Guarda che culo! Sì! Presti in caldo, presti in caldo! Non faccio voglia di respirare, su! No! Eccolo lì! Prestituisce bene il pallone! Bravissimo, gran! Oddio! Oh! No! Arbitro! Quella non è wrestling! Quella non è wrestling! Quella non è wrestling! Contrasco pulito! E via col vento! E dai! Guarda che parte subito lui! Perchè l'ho lanciato? Perchè? 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 Oddio! Ma come fai a sbagliare? Per un gol così! Ancheo! A caso! E già! E già! Partiglia bene! Super parco! Wow! Sobrio! 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 Attenzione! Attenzione! Go! 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 Cosa è quel controllo Pallali? Cretino! Dai! Dalali! Taglia tutto! Taglia tutto! No! In confessione io di peso. La finisce prima e 30! No! Lul! L'arbitro dai via alla seconda metà della gara. cambia la fascia un salto che cazzi però non sa non ne fanno e invece conti adiu madonna quanto so lente a ripartire sti uomini guarda Cosa fa questo? Tunnel? No, 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 no Rigorissimo Crozzo Palla, era sulla palla Era sulla palla Guarda Ma ragazzi Ma ragazzi è una palla piena Ma ragazzi è una palla piena E' una volta I ragazzi E' una volta E' una volta E' una volta E' una volta Ma fanno così Rosso Ma perché mi stanno mettendo? Morales Morata Morales E' una volta E' un mercato E' un mercato E' un mercato E' un mercato si è provato in un posto sbagliato al momento sbagliato guarda che partita di merda che faccio come godo come go hai segnato no occhio no vaffanculo come on come on e come on questa partita finirà in parecchio passiamo alla ora ragazzi partire la seconda partita di nuovo squadre casuali ungharia e già il rotter come cazzo ok signori siamo io faccio l'ungheria io faccio l'ungheria io faccio l'ungheria e la notte e comunque la squadra di cpc no o o subito il via tiriamo fuori le palle ma dai combattiscono la parte della attenzione, palleggiano di testa ancora, di testa io ho visto dentro mamma mia tutti in aria ora pia, pia, tira parti, parti, parti perchè cade, perchè parte boom oh madre mamma mia che vista dentro parti, parti parti nooo si, si, si si, si si, si pia pallone molto pericoloso questo ha spazio perciare suona la parata in presa schizzo male numero di johnson dai dai c'è spazio per andare c'è spazio per andare è già qui è si, era fuori era fuori ma non va finisce però si può bastare 0-0 alla fine del primo tempo è tutto pronto vincita il secondo tempo è un fenomeno è un talento scoperto è un talento scoperto è un fenomeno era si ma questi non corrono eh arbitro dai attenzione buco e mezzo attenzione approvato il cucchiaio non posso uscire eh arbitro spallata boom oh no stai bravo lì numero 20 non c'è nessuno un tiro tiro velleitario che non consente di raggiungere la parità si non è passata no è comunque così però eh dai nooo mamma mia vabbè dove è passata ahhh ahhh e c'è la presa sicura eh già dopo 90 minuti finisce così è parità assoluta va bene ragazzi per quanto riguarda oggi è tutto spero che vi dici due partite in due pareggi ma di culo come è andata è andata anche tu è di culo eh quindi se è piaciuto un commento vi piace fate quello che cavolo vi pare per la testa e ci vediamo nel prossimo video bella